Con Thomas Locatelli parliamo... Tanto ora cominciamo qua? Eh, bella... Sono le interviste più belle. Bello, bello, sì, sì, sì. Facciamo una bella chiacchierata, eh. Prima sul padel, perché comunque sei sempre più forte ovunque vai a partecipare. Così ti dicono. Sì, così mi dicono. Ah, che risultati lo dicono, no? Sì, qualche risultato in effetti l'abbiamo fatto. No, ci sono molti giocatori che stanno crescendo. Per fortuna non siamo in un campo di calcio dove potevano dire la loro in maniera un pochino più importante. Nel padel devono ancora mangiarne di pasta, come si suol dire. Ti alleni molto? Mi diverto molto, che è differente. Allenamenti pochi, come quando tra l'altro giocavo anche a calcio. Allenamenti ne facevamo pochi. Il bello era la domenica, quando si gioca, le partite erano i miei allenamenti. E così anche nel padel. La adrenalina ti arrivava con la partita, eh? Sì, sì, assolutamente. Io i classici giocatori del giovedì non mi piacevano. Quelli poi si esibivano solo in quel giorno? Poi a domenica non si vedevano più. Ti è partito il campionato, quali sono le tue sensazioni dopo la prima giornata? Che indicazioni hai ricavato? Beh, direi che c'è un seguito dalla fine del campionato scorso, per cui le grandi squadre stanno dando continuità, giocando anche molto bene. Il Napoli, il Milan, la Bologna, l'Inter, magari con una partita sulla carta un po' più semplice. La stessa Juve, che quest'anno potrebbe dire la propria, perché non ha le coppe, diventa un campionato molto, molto interessante e oggi è difficile dire chi potrà averla meglio. Comunque, da ex milanista, ritieni che il Milan, nonostante tutti questi nuovi, che magari dovranno un po' assemblarsi, possa dire la propria per lo scudetto? Sì, penso di sì, perché comunque sia quando si atterra nell'ambito Milan, ti mettono nella testa che l'unica cosa importante a cui devi pensare quando sei lì, è scendere in campo e vincere, perché tutto il resto poi ci pensano loro. Ti avevano tra virgolette inquadrato al Milan? È stata la prima cosa che mi hanno detto al Milan, tu devi scendere in campo con la serenità necessaria per dare il meglio di te stesso, a tutto il resto ci pensiamo noi. E così è, in effetti è così. Senti, il Bologna invece che impressione ti ha fatto contro il Milan? Un Bologna che non ha demeritato, però poi in avanti risente della mancanza di Arnautovic di un attaccante di peso? Assolutamente sì, hai proprio trovato la quadra, è quella. Le partite di calcio si vincono facendo gol e gli attaccanti sono troppo importanti per qualsiasi squadra. Io penso che il Bologna andrà sul mercato e qualcosina farà perché è una società importante, ha un pubblico che lo segue in una maniera incredibile, per cui merita di poter passare qualche domenica anche con una serenità maggiore magari di quella che possono aver passato in alcuni periodi. Senti, Arnautovic, secondo te all'Inter cosa può fare? C'era anche lui, non so se l'avevate visto. Allora, per quello che ha fatto nello spezzone di partita l'altra sera, direi che può fare sfracelli. C'è entrato, sembrava giocasse come all'oratorio. Tacco, gli veniva tutto bene, doppio passo, assist. Se questo è la prima, non voglio immaginare appena entra in forma cosa possa fare. Per cui, bravissimo. Ecco, volevo chiederti, siccome tu sei figlio di un calcio in cui il trequartista ancora aveva un senso, un significato, mentre oggi sembra essere un problema, uno come Baldanzi, che futuro può avere, secondo te? Allora, il concetto è che io ho sempre visto il calcio come un gioco, per cui nel gioco bisogna divertirsi. E come si può andare a vedere una partita di calcio senza un trequartista? Chi è che ci fa divertire quando si scende in campo? Gli uomini di fantasia. Io ho litigato tante volte con tanti allenatori, senza fare nomi, ma per me è troppo importante che ci sia qualcuno di qualità all'interno di un campo di calcio con 22 giocatori. Il passato è stata colpa del sacchismo? Eh, però è difficile anche criticarlo, perché i numeri che ha fatto e le vittorie che ha portato. Conto i sacchi, conto sono i sacchisti. Bravo. Tutti coloro che volevano fare quello che aveva fatto sacchi, togliendo anche della qualità al loro gioco, secondo me non era una scelta plausibile. Io non l'avrei fatto, ma io sono piccolo rispetto a tutto il resto. E questa Fiorentina invece dopo una campagna acquisti che ha visto tanti volti nuovi in più o meno tutti i rivoli, dove può arrivare dopo l'ottavo posto l'anno scorso? Allora, la Fiorentina può fare bene, perché intanto è rimasto il medesimo allenatore e di conseguenza un allenatore che comincia a entrare nell'ottica di una società importante come la Fiorentina. Penso e sono sicuro che abbia tutte le possibilità non dico di arrivare tra le prime quattro, ma di rompere tra le virgolette le scatole a tante squadre potrebbe anche succedere. Infatti la prima di campionato dove ha vinto? A Genova che comunque non è un campo facile. In conferenza si può ripetere la cavalcata l'anno scorso o magari con la vittoria finale? Sarebbe strepitoso per i Fiorentini. Io li auguro perché comunque sono tifoso del calcio italiano e come è giusto che sia spero che tutte le squadre italiane possano averla meglio in campo europeo. E la Fiorentina comunque se lo merita perché con questo presidente che sembrava scappato di casa invece è una sicurezza fa le cose in maniera egrigia. In effetti Dominguez invece si è parlato tanto in questo mese di agosto mese di luglio di lui del suo futuro alla fine come andranno le cose? Rimarrà il Bologna secondo te con questo contratto che scade il prossimo anno? Allora se dovessimo parlare oltre che dell'attaccante anche dei centrocampisti a Bologna diventerebbe una tragedia ci manca l'attaccante poi diamo via i centrocampisti migliori potrebbe essere un problema per cui spero come è giusto che sia in ogni squadra a cui uno tifa che i migliori giocatori possano rimanere lì all'interno di quella squadra però nel calcio succede di tutto un'ultima battuta su Spalletti secondo te è l'uomo giusto al posto giusto in questo momento storico del calcio italiano per la nazionale? Assolutamente sì viene da una meraviglia perché quello che ha fatto a Napoli è una meraviglia non è solo una vittoria è un qualcosa che si è fatto apprezzare in ogni parte del mondo per come è scaturita questa vittoria per come ha portato a termine il suo lavoro per cui penso che sia l'allenatore più giusto oggi che potesse dare un qualcosa in più a questa nazionale che serve un qualcosa in più